L'orienteering, tra le sue caratteristiche, vanta la capacità di prestarsi a contesti aziendali come le esperienze di gruppo, gli outdoor. Si tratta di situazioni create fuori del contesto aziendale, ma utili alla formazione delle persone che ne fanno parte. Molteplici gli aspetti che possono essere valorizzati attraverso le esperienze di outdoor come il miglioramento del senso di appartenenza, della gestione dei rapporti tra le persone e la capacità di far vivere l'azienda come un'opportunità al fine di accrescere la voglia di mettersi in gioco. In sostanza, l'esperienza in un ambiente informale e la pratica di una semplice disciplina sportiva permettono di analizzare il proprio comportamento e rilevare le metafore con la vita personale e professionale. Le emozioni stesse accelerano l'apprendimento. Generalmente si creano delle squadre in modo da portare tutti a dare il meglio di sé per non deludere gli altri componenti il team, un modo per favorire e accrescere la fiducia nei propri compagni colleghi. Non si tratta di una prova di forza fisica, ma di abilità, spirito di osservazione ed intuito. Gli istruttori della Federazione Italiana Sport Orientamento insegnano a seguire la bussola, comprendere le carte topografiche e aiutano a capire come orientarsi nel miglior modo possibile. Una nuova esperienza, una sfida da accettare con coscienza e preparazione, un'opportunità per sperimentare il significato e la gestione di un team.